6 novembre 2000. Una bomber colpisce ancora con un tubetto di pomodoro in un supermercato. L'attentato avviene nel supermercato di Porto Gruaro, in provincia di Venezia, stesso luogo scelto una settimana prima per un altro attentato di Namitardo, scongiurato dall'intervento degli artificieri. Stavolta l'ordigno, contenuto in un tubetto di pomodoro, esplode fra le mani di Nadia Ross. La mano sinistra della donna viene lacerata nell'esplosione. Gli attentati terroristici di una bomber sono iniziati nel 1994 e da allora gli si attribuiscono almeno 30 episodi terroristici fra Veneto e Friuli.